Nuovo show di Anastasia Grimalska che si aggiudica anche la finale del singolare del Tourailava Abruzzo, il circuito internazionale femminile che si è svolto sui campi del tennis club Prati 37 a Pescara. Dopo il successo nella finale del doppio con Annie Sheffer, battuto nella finale del singolare la toscana Tatiana Pieri in 3 set 6-3, 3-6, 6-3, centrando un clamoroso bis. La tennista abruzzese tra l'altro anche l'anno scorso si impose a braccia alzate nella prima edizione del circuito I Love Abruzzo, organizzato da Luca Del Federico. La bellissima finale ha vinto Anastasia Grimalska con una partita molto combattuta e la giocatrice pescarese si è fermata anche quest'anno con un successo veramente straordinario ripetendo la vittoria dell'anno scorso e in più doppiando sia il risultato singolare che di doppio.